Ah, 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 signora, ma lei ha truffato lo stadio italiano per 1,7 miliardi di euro. E non si fa. Ecco questa statua di una rappresentazione assolutamente inutile che noi le regaleremo. Ma come, signora, non la vuole? Inseguiamo la signora a prendere la sua statua. Signora, signora, è caduto. Le truffe. Eeeh. Eeeh.